Ciao, io non sono Dario Lama e questa è la storia di un idraulico, un idraulico che aveva un sogno. Il suo sogno era un party di 24 ore, come ha auspicato da quel ragazzo sovrappeso di Manchester. Ma nella sua testa c'era più di un party, c'era una festina delle medie, una festina delle medie lunga un giorno. Questo giorno sarà l'ultimo dell'anno del 2010, dalla mezzanotte del 30 dicembre 2010 fino alla mezzanotte del 31 dicembre 2010. E dove lo spiegherà qualcun altro? A me resta di spiegarvi il come, il perché e l'anche. All'entrata di tale luogo X qualcuno potrebbe porvi un questionario di nome C31 con domande quale... Sei piromene? Sì, no. Sei cleptomene? Sì, no. Disturbo alla vista di un extracomunitario? Sì, no. Quando per la prima volta hai sentito il termine maieutica? Sì, no. Alle basi dell'organizzazione del cosiddetto camping party e in particolare in merito al consumo di bevande alcoliche e derrate alimentari sta l'idea di condivisione o meglio di socialismo nella visione di Meister, il rivoluzionario ungherese di fine ottocento che sicuramente avete sentito, il compagno Meister, Jäger appunto. Cosa significa questo? Niente. Quindi, che dire, siete tutti invitati, anche tu. A presto, al 31. Io non vengo perché lavoro, poi anche fate voi. Ciao.